Nella lezione passata abbiamo parlato di quello che è il paradigma orientato agli oggetti. A questo punto l'idea è quella di provare a capire meglio come possiamo sfruttare questo paradigma orientato agli oggetti per costruire una soluzione data un problema. Come facciamo di solito? Di solito utilizziamo una qualche notazione, meglio se grafica, per passare da una serie di concetti e di idee a una struttura ben definita. Nel contesto dello sviluppo orientato agli oggetti, quello che viene fatto di solito è di utilizzare un linguaggio che si chiama UML. UML sta per Unified Modeling Language ed è il linguaggio standardizzato con cui viene progettato qualunque programma sviluppato con l'approccio orientato agli oggetti. Si tratta di una tozione grafica che permette di andare a definire quelli che sono i componenti di un programma orientato agli oggetti. Storicamente è nato dalla fusione di due diverse tecniche di modellazione, una quella sviluppata da Grady Butch, l'altra OMT e una terza che poi è confluita anch'essa, che è OSE. I tre consulenti che sostanzialmente hanno sviluppato queste tre tecniche si sono messi assieme e hanno costruito quello che è la notazione UML. UML comprende diverse tipologie di diagrammi, i diagrammi delle classi, di attività, i diagrammi dei casi d'uso, di sequenza, gli state chart. Noi ci focalizzeremo sostanzialmente su uno di questi, che è il diagramma delle classi, che è il primo, è quello più importante, più diffuso e sostanzialmente il più noto tra i diagrammi UML. Qual è l'obiettivo del diagramma delle classi? Sostanzialmente il diagramma delle classi ha l'obiettivo di andare a catturare quelli che sono i principali concetti, spesso non dettagliati e concreti, ma normalmente a livello astratto, quali sono le caratteristiche che definiscono questi concetti, sostanzialmente i dati associati a questi concetti, e se esistono delle relazioni tra questi concetti che possono essere utili per andare a risolvere il problema che ci poniamo. Inoltre, dentro un diagramma delle classi, noi possiamo andare a indicare quello che è il comportamento delle classi. Quindi, se ricordate quanto dicevamo sul paradigma orientato agli oggetti, stiamo parlando dell'interfaccia, le funzioni che stanno all'interno delle classi e che sono deputate ad accedere ai dati. Qual è il primo passaggio che dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto andare a capire quali sono i diversi livelli di astrazione che sono coinvolti in un approccio di soluzione dei problemi orientato agli oggetti. Abbiamo sostanzialmente due livelli di astrazione, quello che possiamo chiamare astratto e un altro che è concreto. A livello astratto noi parliamo spesso di concetti, di entità, classi, categorie, tipi. A livello concreto noi parliamo di stanze, elementi, oggetti, esempi, occorrenze. Ecco, l'approccio orientato agli oggetti si muove tra questi due livelli, andando a utilizzare i due termini specifici che sono classe e oggetto. Un aspetto astratto, che è quello che noi definiamo in fase di progettazione, e un aspetto concreto, che è quello che noi possiamo osservare in fase di esecuzione. A livello astratto, in fase di design, noi andiamo a definire le classi. A livello concreto, in fase di esecuzione, noi possiamo osservare all'interno di un programma degli oggetti che interagiscono tra di loro, contengono dei dati ed operano sui propri dati. Iniziamo a capire quindi che cos'è il livello astratto e come lo rappresentiamo, normalmente tramite delle classi. Una classe rappresenta, normalmente, un insieme di oggetti che hanno caratteristiche comuni, ma che sono sostanzialmente indipendenti tra di loro. Fatti, oggetti, persone. Normalmente si dice che l'istanza di una classe è un oggetto che ha come tipo quella classe. Da qui, se pensiamo a un'applicazione per gestire un'organizzazione commerciale, possiamo avere classi come, ad esempio, città, dipartimento, impiegato, acquisto, vendita. Come rappresentiamo queste classi? In maniera grafica. L'OML ci dice che rappresentiamo le classi tramite dei rettangoli. I rettangoli hanno, normalmente, da uno a tre comparti, il nome della classe sta sempre nel comparto più in alto. Per cui, nel caso specifico, abbiamo una classe impiegato, una classe vendita, una classe dipartimento, una classe città. Abbiamo detto che, in corrispondenza alle classi, abbiamo degli oggetti. Gli oggetti, di solito, rappresentano delle entità fisiche, quindi uno studente, uno di voi, un docente, un esame, quindi non necessariamente un'entità concreta, una finestra, sia una finestra fisica che una finestra all'interno di un'applicazione. Di solito, gli oggetti sono caratterizzati da un'identità, quindi ogni oggetto è diverso da un altro, da una serie di attributi o dati, sostanzialmente le informazioni che stanno dentro l'oggetto, da delle operazioni che sostanzialmente definiscono quello che è il comportamento potenziale di un oggetto, e sostanzialmente dalla sua interfaccia. Normalmente le operazioni e l'interfaccia non sempre coincidono perché è possibile che esistano delle operazioni interne non accessibili dall'esterno. In UML gli oggetti vengono anch'essi definiti tramite dei rettangoli, a differenza delle classi però hanno un unico comparto e soprattutto sono caratterizzate da un nome, quindi il nome che dà l'identità dell'oggetto e la classe a cui appartengono. Per cui qui abbiamo un oggetto Tawin di classe Dipartimento, un oggetto che si chiama John di classe Employee. Quindi, riepilogando classi e oggetti, la classe è la descrizione, un tipo sostanzialmente, che definisce la struttura degli oggetti in termini di dati, che vengono spesso chiamati attributi o campi, funzioni, che vengono chiamati metodi oppure operazioni, e funzioni di creazione, che vengono chiamati costruttori. E abbiamo poi gli oggetti che sono istanze delle classi, quindi mentre la classe definisce la struttura, l'oggetto effettivamente contiene i dati, dei valori specifici per gli attributi, può eseguire dei metodi, può essere creato. Quindi un oggetto si dice che ha un'identità propria e ha uno stato che può variare tramite l'esecuzione dei metodi. Quindi, una classe è la definizione di un tipo, l'atto di creazione si chiama istanziazione, quindi gli oggetti spesso vengono chiamati anche istanze di una classe, e in generale, data una classe, non c'è alcun limite al numero di oggetti che io posso creare a partire da esse. E tutti gli oggetti creati sono tra di loro indipendenti. Quindi, immaginando una notazione comune che conosciamo tutti, quella dei diagrammi di Venn, possiamo dire che le classi corrispondono un po' al concetto di insieme, mentre invece gli oggetti corrispondono al concetto di elemento di un insieme. Ovviamente, una volta definita la classe, dobbiamo andare a descrivere quale è la sua struttura, e quindi come verranno strutturati gli oggetti istanze di quella classe. L'elemento fondamentale che noi mettiamo dentro la classe sono i dati che vengono descritti in termini di attributi. Gli attributi, esattamente come le variabili in qualunque linguaggio di programmazione, e infatti quasi tutti i linguaggi di programmazione e gli attributi seguono una notazione che è molto simile a quella della dichiarazione delle variabili, hanno un nome e un tipo. Normalmente, la classe definisce il nome e il tipo, e poi ogni oggetto avrà un valore associato a ciascuno degli attributi definiti nella classe di cui è istanza. Dove vengono definiti gli attributi? Beh, all'interno del rettangolo che rappresenta una classe. Gli attributi di solito vengono descritti nel comparto intermedio, quindi abbiamo il nome della classe, ad esempio in questo caso corso, due attributi, codice e anno, che hanno rispettivamente come tipo stringa, integer e integer. Una classe città che ha due attributi, nome di tipo stringa e abitanti di tipo intero. Una classe impiegato che ha come attributo salary di tipo currency. Ovviamente, oltre agli attributi, noi abbiamo la necessità di andare a definire quelle che sono le operazioni che io posso svolgere sui dati, e queste sono definite in termini di metodi. I metodi descrivono come io posso operare sui dati interni. Sono analoghi alle funzioni dei linguaggi di programmazione procedurali e quindi avranno un nome, dei parametri e un eventuale tipo di ritorno. e sono il modo in cui io riesco ad agire sui dati interni agli oggetti. Come vengono descritti? Sostanzialmente vengono descritti nel terzo comparto con il nome e il tipo di ritorno. Vi faccio notare quindi che complessivamente una classe ha normalmente tre comparti, il primo che indica il nome, il secondo che indica gli attributi e il terzo che indica i metodi. Piccola osservazione relativa alla notazione. Vedete che qua il nome è seguito da un due punti e poi dal tipo. Questa è una notazione che non è comune, almeno se pensiamo al C, normalmente sono scambiati, quindi abbiamo prima il tipo e poi il nome. Questa è una notazione che deriva dal linguaggio che si chiama Pascale e poi anche da Ada. era molto comoda, facile da descrivere, quindi è stata mantenuta anche all'interno di OML. Come possono interagire tra di loro gli oggetti? Beh, l'idea è che gli oggetti si scambiano dei messaggi e un messaggio sostanzialmente è una richiesta che fa un oggetto all'altro di eseguire uno dei suoi metodi. Normalmente, lo vedremo poi più avanti, non c'è una corrispondenza univoca, diretta, tra quello che è un messaggio e quello che è l'effettivo codice che verrà eseguito, perché ci possono essere dei meccanismi di differenziazione, ma ci arriveremo. Molto spesso è utile andare a descrivere come avvengono questi messaggi scambiati, queste chiamate di metodi, tra oggetti, e per cui vengono utilizzati dei diagrammi di interazione, come questo, in cui abbiamo rappresentati diversi oggetti, quindi, ad esempio, il dipartimento Dao, un'impiegata Employee, un'altra impiegata Jane, e c'è un messaggio che si chiama PrintName, quindi PrintName probabilmente andrà a eseguire il metodo che si chiama così, quindi PrintName, all'interno dell'oggetto John, che è di tipo impiegato. Finora abbiamo visto classi a sé stanti. Ovviamente, in un programma, in una condizione complessa, esistono più classi che sono collegate tra di loro. per cui è necessario andare a indicare come queste classi sono legate. Normalmente, il legame che esiste tra le classi esiste anche tra i concetti che rappresentano nel domingo del problema che noi vogliamo andare a risolvere. in UML i legami tra le classi sono rappresentati tramite delle associazioni, che quindi indicano un legame tra due classi. Normalmente abbiamo una coppia di oggetti che corrispondono alle classi che saranno legati tramite questa associazione. Attenzione che quando noi andiamo a identificare un'associazione, l'associazione la definiamo in base alle classi. quindi, se torniamo alla nostra analogia di diagrammi di Venn, abbiamo due insiemi che corrispondono alla classe studente e alla classe corso e abbiamo una serie di legami tra questi. Quindi avremo ragionevolmente una classe, scusate, uno studente che segue un particolare corso, due che seguono questo corso, uno che segue quest'altro, uno studente che segue due corsi diversi. Ecco, questi sono dei legami tra gli oggetti. Normalmente io non vado a descriverle tutti, ma li vado a descrivere in termini di una associazione tra le classi. Attenzione, l'associazione tra le classi di solito mi dà la possibilità di andare a legare due oggetti alle classi corrispondenti. Non è un obbligo. Qui, in questo caso, qui abbiamo un oggetto di tipo studente che non è legato ad alcun corso. Di qua abbiamo un corso che non è legato a nessuno studente. Quindi, sostanzialmente, la classe, l'associazione tra le classi, di solito mi indica un possibile legame tra gli oggetti. Come rappresentiamo le associazioni in UML, le rappresentiamo andando a legare due classi con un segmento o comunque con una spezzata e andando a indicare vicino a questo segmento il nome. In UML poi è possibile andare a indicare anche questo dettaglio, questo piccolo triangolino, che indica l'ordine con cui andare a leggere l'associazione. Per cui, in questo caso, lo studente segue il corso. L'impiegato lavora in una città. Oppure possiamo avere residenza, che è un concetto un po' più vago, che non ha necessità di avere un ordine di lettura. Ovviamente noi usiamo le associazioni per andare a rappresentare dei legami che spesso non esistono nel dominio del problema. Da cui il fatto che uno studente segue un corso è un qualcosa che noi diciamo tranquillamente nel linguaggio naturale e che poi vogliamo tradurre tramite questa associazione e poi col passato successivo nella definizione del codice con un qualcosa di corrispondente nel nostro programma. Le associazioni possono anche essere ricorsive, quindi è possibile che una classe sia legata a se stessa. Ricordatevi che un'associazione indica un potenziale collegamento tra oggetti delle classi collegate, quindi questa associazione ricorsiva amico su studente non vuol dire che uno studente è amico di se stesso, vuol dire che all'interno dell'insieme degli studenti avremo due elementi che possono essere legati da questa associazione di amicizie. Spesso capita che alcune associazioni possano essere assolutamente riflessive, quindi l'amicizia ad esempio potrebbe essere una di queste. Se A è amico di B, B sarà amico di A. È un'assunzione un po' semplificativa, ma giusto per darvi l'idea. Non sempre però è così. In alcuni casi le associazioni anche ricorsive non sono simmetriche, per cui se andiamo a prendere la classe degli impiegati, tra gli impiegati ci possono essere dei manager e degli impiegati sottoposti, in cui abbiamo che un manager è il supervisore di un altro impiegato. In questo caso la supervisione non è un'associazione simmetrica, ha due ruoli ben distinti. Per identificare questi ruoli in UML si aggiungono queste annotazioni ai due estremi dell'associazione che vengono chiamati per l'appunto ruoli, per cui la supervisione, l'associazione sopravvede ha due ruoli manager ed employee. Un altro aspetto importante che non dobbiamo dimenticare è che l'associazione di pensieri ha la potenzialità che esista un legame tra gli oggetti di quelle classi. spesso però è necessario andare a dare qualche dettaglio in più, cioè quanti supervisori può avere un impiegato, quanti amici può avere uno studente o una persona. Per fare questo in UML è prevista la possibilità di andare a definire quella che si chiama la molteplicità delle associazioni per andare a dire quanti oggetti di una certa classe possono essere legati a quanti altri oggetti di un'altra classe. Le molteplicità vengono indicate in UML tramite questi numerini che vengono messi ai due estremi dell'associazione. Qual è il significato di questi numerini? Sostanzialmente indicano il minimo e il massimo. Per cui se andiamo a vedere quello 0 e quel 4 vuol dire che sostanzialmente mettendoci dal punto di vista dell'auto l'auto può vedere un minimo di 0 e un massimo di 4 ruote montate. Quindi i numerini che stanno vicino alla ruota mi dicono quante ruote può vedere un'auto. Quindi complessivamente questo mi dice che un'auto può montare nessuna ma fino a 4 ruote. Ovviamente possiamo anche ribaltare il tutto e quindi di là abbiamo uno 0 1 che mi indica che un'auto può essere montata su al più un'auto. Quindi la ruota può essere montata su un'auto oppure potrebbe non essere in questo momento specifico montata su nessun'auto. Potrebbe essere ad esempio la ruota di scorta. Normalmente quando andiamo a definire le molteplicità non usiamo dei numeri specifici come ad esempio questo 4 qui ma andiamo a indicare dei numeri che sono solitamente o 0 o 1 oppure il simbolo asterisco che significa molti. Perché? Perché come facilmente immaginate molto spesso a me interessa sapere se il minimo è 0 oppure no quindi se ho l'obbligo e il massimo mi interessa sapere se è 1 oppure se è più di 1 perché? Perché se 1 a me basta una semplice variabile se è più di 1 devo utilizzare una struttura a dati diversa un array o qualcosa di più complicato. Per cui normalmente quando parliamo di molteplicità minima mettiamo o 0 o 1 0 significa che la partecipazione è opzionale mentre invece 1 significa che la partecipazione è obbligatoria quindi se ho dall'altra parte 1 o 0 vuol dire che potrei anche non essere collegato a nulla se ho 1 devo essere per forza collegato ad almeno un oggetto. Per quanto riguarda la molteplicità massima di solito si usano 1 oppure molti 1 vuol dire che al più io vedo un oggetto dall'altra parte se mi metto nei panni di un altro oggetto l'asterisco molti mi dice che io posso vederne anche più di uno tanti cosa vuol dire questo? Vuol dire che se andiamo a vedere questi esempi un ordine un ordine può essere legato a 0 o 1 fattura ho appena emesso l'ordine non è ancora stato evaso quindi io non ho nessuna fattura una volta che l'ordine è stato evaso avrò una fattura ma ragionevolmente dato un ordine avrò una sola fattura viceversa una fattura è legata a un ordine qui non ho il minimo e il massimo ho messo semplicemente 1 intendendo dire che quello è sia il minimo che il massimo quindi io non posso avere una fattura senza un ordine persona e città una persona deve avere una residenza per forza in una città una città può avere come residenti 0 oppure molti molte persone 0 se la città è stata chiusa evacuata molti che è il caso normale turista e viaggio legati dall'associazione prenotazione un turista può aver prenotato 0 o più vergi un viaggio normalmente deve avere almeno un turista prenotato oppure anche più di uno esiste una particolare tipo di associazione che si chiama aggregazione e che viene indicata tramite questo piccolo segno diamond in inglese rombo in italiano mi dice che sostanzialmente la classe B è una parte di è un aggregato della classe A quindi è un componente essenziale della parte A questo è utile per andare a rappresentare dei casi in cui ho un elemento principale e ho altre classi che rappresentano invece dei elementi meno importanti sussidiari per cui ad esempio la auto è un aggregato di un motore quattro ruote e un lettore cd a questo punto come facciamo a utilizzare i concetti che abbiamo visto per andare a costruire quella che è una struttura di un programma allora le linee guida che noi dobbiamo seguire sono queste e sono molto semplici cerchiamo di analizzare il nostro problema il problema avrà una serie di concetti quindi normalmente i concetti che compaiono nel nostro problema che hanno un'importanza da garantire un'esistenza autonoma di solito vengono rappresentati tramite delle classi quando ho identificato una classe normalmente cerco di andare a capire quali sono i dati che la caratterizzano cerco anche di capire quali sono eventualmente i legami tra una classe e le altre classi e poi cerco di capire quali sono le operazioni che devono poter svolgere gli oggetti di quella classe sui propri dati quindi normalmente io cerco prima di identificare le classi i dati loro caratteristici quindi gli attributi le associazioni tra queste classi e i metodi ovvero le operazioni che vengono svolte all'interno degli oggetti di queste classi a questo punto mi fermo e lunedì proveremo a capire come partendo da una descrizione ad esempio del caso di studio del scontrino del registratore di cassa possiamo andare a identificare le classi e le loro caratteristiche per andare a realizzare una applicazione che sfrutti l'approccio orientato agli oggetti al fine di risolvere quel problema e che sia sostanzialmente la versione orientata agli oggetti del semplice programma C che abbiamo iniziato a immaginare quando abbiamo visto l'esempio dello scontrino del registratore di cassa nella lezione precedente quindi iniziate a ragionare e a meditare su questi concetti e poi lunedì torneremo a utilizzarli nella maniera più appropriata di cassa